Mister, buonasera. In Italia da battere le mancava soltanto il Milan. Questa era una sfida da dentro fuori, la serata perfetta. Sì, diciamo che abbiamo fatto una partita importante di intelligenza, di qualità. Sapevamo che per battere il Milan dovevamo fare qualcosa di importante, l'abbiamo fatto, però è giusto goderci la vittoria con questi magnifici tifosi che ci hanno trascinato. Insomma, per alzare il trofeo manca ancora una partita e in campionato abbiamo da qua alla fine tantissime partite. Rispetto agli altri derby, che cosa ha cambiato questa volta? Ma io penso che i primi due di campionato, secondo me, sono stati fatti molto molto bene. Purtroppo a volte succede e non siamo stati premiati dal risultato. Probabilmente il terzo, quello dello 0-0, è quello che abbiamo fatto meno, però siamo rimasti sempre in partita. Stasera, insomma, abbiamo fatto una partita sopra le righe, di importanza importantissima, perché volevamo questa finale. Un suo bilancio personale al primo anno all'Inter con la Supercoppa? Gli ottavi raggiunti in corsa per il campionato, adesso la finale di Coppa Italia. Ma è un bilancio che bisogna aspettare a fare. È normale che, secondo me, stiamo lavorando bene insieme ai ragazzi, insieme allo staff, insieme alla società, ai nostri tifosi, perché è un lavoro lungo che parte dall'8 luglio, che sappiamo il nostro percorso, com'è cominciato e da dove è iniziato, ma adesso mi sembra prematuro fare altri discorsi. Domanda da studio? Sì, buonasera mister, complimenti per la partita, per la vittoria, per la conquista di questa importante finale. Avevo detto sabato che, secondo me, nelle ultime tre gare avevamo visto un Inter dimostrare diverse qualità, arrivare alla vittoria in modi diversi. Quest'oggi, secondo me, avete unito tutti i puntini, avete veramente fatto quasi la gara perfetta, sono emersi e mi sono segnato diversi aspetti, intelligenza, esperienza, ho segnato qualità e umiltà anche. È d'accordo da questo punto di vista? Che tipo di convinzione deve lasciare dentro la testa dei giocatori dopo questa vittoria per provare a concludere la stagione in migliore dei modi? Ma io penso che hai detto molto bene qualità e umiltà, perché quando c'era bisogno abbiamo messo tanta qualità in campo e quando c'era bisogno siamo stati umili, abbiamo lavorato di squadra, i cinque subentrati sono entrati nel migliore dei modi, perché entrare in una partita così non è semplice, Vidal probabilmente ci ha rimesso una caviglia sul 3-0 per noi, per non lasciare ripartire il Milan, quindi con questa unità di intenti secondo me questo finale di campionato sarà importante. Fernando? Sì, io al mister volevo chiedere una considerazione sull'autoro Martinez, sulla gestione che lei ha avuto di Lauti in un 2022, che non sembrava essere proprio il suo anno migliore, però nelle ultime settimane è stato di fatti il giocatore decisivo. Ma io penso che per un attaccante ci siano dei momenti, i Lauti come tutti gli altri secondo me stanno facendo un grandissimo lavoro, perché ai miei attaccanti non gli chiedo solo il gol, ma gli chiedo di partecipare anche alla fase di non possesso, quindi come ho detto prima ce ne ho cinque, devo farli ruotare, venerdì a Spezia l'auti era rimasto fuori, stasera è partito dall'inizio, era fresco, lucido, sono contento perché volevamo questa finale e adesso andremo a giocarcela tra 20 giorni nel migliore dei modi. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi.